Ciao ragazzi, lo sapete qual è il colmo per un water? Sentirsi di merda. Un po' come mi sento di merda io dopo aver fatto questa battuta ed è per questo motivo che senza attendere troppo io vado nella vasca da bagno a fare l'intro perché ragazzi, vi devo dare il benvenuto a questa nuova puntata della Pixelmon GX. Ed eccoci qui ragazzi, nuovo video, nuova corsa. In questo video ragazzi voglio andare a provare il nuovo minigame che ho creato che in realtà è un vecchio minigame perché si tratta dell'indovina il Pokémon ma che ho finalmente, e sarete contenti perché me lo chiedevate da un secolo spostato alla Sfortunas, infatti qui dietro non c'è più. Ma non l'ho solo spostato, l'ho ricostruito da capo e ora ha molti più Pokémon, sarà più difficile, c'è più varietà abbraccia più generazioni e sarà molto più figo quindi oggi voglio andare a provare la nuova versione del minigioco per inaugurarla. Vi devo anche dire altre cose a partire dal fatto che ragazzi sono online le maglie Siren, ma non solamente le maglie c'è online di tutto, felpe, felpe con cappuccio, canottiere, maglie da donna, maglie da uomo maglie a maniche lunghe, a maniche corte, di tutti i colori che volete e se siete interessati a supportare e a prendere qualcosa dalla campagna Siren che quindi è il merchandising mio e della mia ragazza, trovate il link in descrizione. Detto ciò non ci resta che andare a cercare il nostro ospite di oggi che ci accompagnerà in questo nuovo minigame. Ok ragazzi facciamo uscire il nostro bellissimo Flygon Shiny e andiamo a far vedere i nostri Pokémon fighissimi al nuovo arrivato nella serie che non vediamo da in realtà due puntate e sto parlando di Tano che ci aiuterà a fare il minigame. Tornando nella ball Flygon e vediamo se Metano è in casa. Tano! Tano! Hola! Ciao! Cosa stai facendo? Di bello? Sistemavo un pochettino tutto qua, le robe, facevo. Ma lo sai che casa tua mi fa piangere gli occhi? Perché non hai visto il pezzo sotto, vieni qui. Come il pezzo sotto? Perché tu dici è tutta blu, ma guarda che top il pezzo sotto che non è nemmeno blu. No, che cosa sto... Che fastidio dà sto colore! Ma è il blocco più fastidioso della vita! È bello per questo, no? E poi puoi fare il soffitto più alto, cazzo. No, perché questa non è una stanza, questo è lo sgabuzzino. Vabbè, comunque Tano, avrai i miei dubbi su quello che hai detto, ma ti voglio invitare a giocare il minigame che ti stavo accennando poc'anzi. Mmm, minigame. Sei disponibile? Certo, uomo. Allora, prendi il tuo Pokémon volante e andiamo. Ok. Non è un Pokémon. Non ho un Pokémon volante. Non è neanche volante quella. Vabbè, però mi muovo. Vabbè, io ti aspetto là. Tano, mi raccomando, lascia stare Divina che ora che non c'è più eustacchio né dintorno... No, ma ancora la distanza di sicurezza c'è sempre, per ora. Eh sì, ecco, vai. C'è anche, vedi, questo è il suo bodyguard che la controlla. Comunque, se tu premi qui, verrai istatippato. Alla Sfortunas. L'hai già vista la Sfortunas? No. Che Sfortunas? Beh, allora te la spiego io. È una città di minigiochi, fine. Che figo! Allora, Tano, devi sapere che questo minigioco già esisteva. L'ho ricostruito più grande. Vedi? Ci sono ben 25 Pokémon. Quindi è molto semplice. Dimmi. È fighissimo. Li calpesto tutti, guarda. Eh, ma non è fatto per questo. Non è a chiappa la talpa, Tano. Devi indovinarlo il Pokémon. Prima di giocare al minigame, devo far vedere due cose ai miei scritti. Quindi, Tano, tu aspetto un attimo che ti spiego due robe veloci. Allora, cosa numero uno. Ho una terza Master Ball. Perché battendo svariati boss, un boss leggendario, mi ha droppato un'altra Master Ball. E quindi adesso ne ho tre, non ne avevo neanche una all'inizio, adesso ne ho tre. E poi, avete notato nel video precedente, non l'ho detto perché mi sono scordato, che avevo un altro Globo Neutro. Quest'altro Globo Neutro me l'ha regalato Dani, che l'ha trovato da un boss. E mi ha detto, io non me ne faccio niente, non mi interessano gli uccelli leggendari. Me l'ha regalato. E fine. Vi aspettavate una storia super emozionante, ma era solo questo. Il minigioco si chiama, indovina chi con i Pokémon, di Aaron Blaze, che sono proprio io. Ora, prendi uno dei libri con il regolamento. Devi sapere che questi libri li ho scritti tutti, uno per uno, a mano. No, eh, non ci credo mai. E tra l'altro ci sono le regole e tutto quanto. Quindi, apri il libro e leggicele tu, facci la cicerone. Ma no, ma sono quattro pagine, ma che mi vuoi uccidere? Eh, vabbè, dai, leggi. No, sei tu che l'hai creato, eh. Appunto, io l'ho scritto, tu lo leggi. Cioè, dividiamo il lavoro in qualche modo. No, 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 se vuoi i meriti, tutto lavoro tuo, eh. Dai, Tano, su. Va bene, ok. Dai. Benvenuti a Indovina Chi con i Pokémon. Ok. Si gioca in due, quindi se non hai almeno un amico, mi dispiace per te. Ma, ehi, fatti due domande. Io non ho un amico. Vabbè, però in questo caso facciamo finta che io sono un amico. Dai, siamo, va bene, vanno bene anche conoscenti, dai. Sì, dai, va bene anche conoscenti, però manteniamo le dovute distanze, Tano. No. Quello, vabbè. Tu sei una persona che ruba le mogli agli eustachi. Ma dai, una volta è capitato. Fa niente. Guarda che erano dieci secondi intensi, ma dieci secondi comunque. E tanto ti è bastato per completare il tuo compito, quindi. Passiamo ad andare oltre. Vabbè, dai, continuiamo. Nel primo round, un giocatore decide un Pokémon e l'avversario deve cercare di indovinarlo, facendo una domanda alla volta. Una volta indovinato il Pokémon, si tiene conto dei turni. Ad esempio, quattro domande più un tentativo uguale cinque turni. Tutto chiaro? No. Perfetto, andiamo avanti. Nel secondo round si fa la stessa cosa, ma a ruoli invertiti. Vince chi indovina nel minor numero di turni possibile. Utilizzate le leve e le lampade sotto ogni statua per tenere traccia dei Pokémon che potrebbero essere la soluzione. Potete applicare le regole e piacere sulle domande. Esempio, vi trattate le domande sui tipi. Ah, beh, è onesto. Infine, il primo finale, ambitissimo, è un bel video probabilmente che farà views. E la madonna. Quindi, che altro pretendi, eh? Ogni tanto si grato... No, 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 queste sono cose che... Dai, leggi, l'ho fatto più bella. Non le ho fatto leggere solo per quello. Leggili! Leggili, sennò chiamo un'altra persona a leggere. Ogni tanto si grato delle cose che hai senza... No, che hai senza... Non so, leggere! Non so, leggere! Dai! Che padre, Tony, hai rovinato tutta la gag. Io mi metto da questo lato, no? Vedi, ci sono delle sedie. La sedia serve per sedersi in questo modo. Tu andrai dall'altra parte, quindi il lato verde, seguimi. Ora, davanti a te vedrai 25 Pokémon. Non so quanti siano, ma... Sono 25, te lo assicuro. Sono divisi per aspetto fisico, colore, tipi. Sono molto diversi tra loro. E se non sai come si chiama uno dei Pokémon, hai il nome sopra. Vabbè, sì, si vede tutto. Quindi, quello che dovremmo fare è indovinare il Pokémon. Quindi, per dire, il primo turno, facciamo finta che io scelgo il Pokémon, no? Tu dovrai indovinare. Quindi mi farei delle domande. Per dire, il Pokémon ha le zampe? Io ti dico sì o no. Se il Pokémon ha le zampe, lo salvi. Se non ha le zampe, tipo Voltorb, spegni la lampada. E via dicendo, no? Tipo, questo ha le zampe? Trabbish. Probabilmente sì. Quindi, chi è che non ha le zampe? Diglett non ha le zampe. Quindi lo spegni. E spegni tutti quelli che non corrispondono alla domanda. Tieni traccia dei Pokémon che rimangono in gioco. Al contrario, quando tu sceglierai il Pokémon, per dire, il tuo Pokémon che io devo indovinare è Ditto, vai a spegnere Ditto, così tieni traccia. E poi io ti faccio le domande. Dimmi quando ci sei. Ho già fatto, ho già fatto. Hai già fatto. Ok, tutto chiaro? Adesso io ti farò delle domande e Tano tu dovrai rispondermi. Va bene. Ok, qui abbiamo 25 Pokémon. Non sarà per nulla semplice ridurre il loro numero. Per cui, così ad occhio, voglio chiederti una cosa. Dimmi. Il Pokémon che tu hai scelto ha nel suo corpo il colore rosso, che sia colore principale o anche solamente un dettaglio? No. No? Non ha il colore rosso? Non ce l'ha. Ok, quindi. Allora, andiamo ad eliminare un bel po' di gente. Finneon, Diglett sono salvi. Selle bianche. Zorua lo possiamo togliere, così come Darumaka. Voltorb lo togliamo. Ivi rimane. Venipede è rosso o viola, secondo te? Aspetta, Venipede. Venipede è... No, non... Secondo me c'è del rosso, dai. Il rosso sì, sì. Comunque secondo me è considerabile con qualcosa di rosso, dai. Allora lo togliamo. Sin da qui la punta delle fiamme rossicce, anche se sono un po' arancioni. Axiou ha gli occhi rossi, quindi lo togliamo. Shymin ha le alucce rosse. Pikachu ha le guance rosse. Ditto, niente. Froki, niente. Jan Moe ha gli occhi rossi, quindi lo togliamo. Sto togliendo un botto, Tano, eh. Eh, uomo, hai fatto la domanda giusta, ma all'inizio è anche normale, dai. Allora, Trabish è salvato, Rotom è salvato, Magikarp lo togliamo, Uppa sì, Sneezel lo togliamo, Vulpix, eh, Vulpix non è esattamente rosso. Yangoos, detto Donald Trump rimane, Rowlet rimane, Fanfy lo togliamo, Mio rimane. Quindi andiamo a vedere la situazione qual è. Direi che abbiamo fatto una bella domanda, questa è davvero una bella domanda. Ci rimangono solamente 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Pokémon. Gli abbiamo praticamente dimezzati. Buon per te, ma secondo me non sarà facile. Non sarà facile. Già capisco che li ho assorditi bene queste Pokémon, perché con una domanda sul colore ne abbiamo tolti in metà. Quindi era abbastanza equilibrata la cosa. Allora, vediamo un po' che cosa ci rimane. Credo di farti una domanda molto specifica, me la rischio. Vai. Ok. Questo Pokémon ha le zampe? Eh, no, non ce le ha. Ecco, e qui ti volevo, perché se non ha le zampe ne possiamo togliere un bel po'. Allora, Finneon e Diglett non le hanno. Celebi però sì, quindi le togliamo. Eevee ha le zampe, ovviamente. Ditto. Ditto ha queste le manine, però ha una massa informe. Ditto non sono zampe quelle lì. Non sono zampe. Mannaggia. Vabbè, mani forse si possono definire mani, però alla fine è tipo un catarrino, Ditto. Sì, Ditto è tipo uno slime, non lo so. Sì, sì, non puoi dire che ha zampe o mani. Cioè, zampe è già più decente, ma... Beviamo tutti i leggendari. Ah, ok, così. Togliamo Pikachu invece. Froki. Trabbish ha delle zampe. Aspetta, qual è? Trabbish ha il sacco dell'immondizia e tra l'altro ha la texture buggatissima. Non ha le zampe. Uppa ha le zampe, lo togliamo. Togliamo Donald. Rowlet. E togliamo anche Mew. E qui, Tano, abbiamo fatto una bella domanda. Abbiamo fatto una bella domanda. No, no, non va bene, non va bene. Perché ci rimangono, attenzione, solamente quattro Pokémon, Tano. Quattro, anzi, sì, quattro Pokémon, giusto. Quindi, che domanda posso fare al buon Tano? Una domanda che li può smezzare è la seguente. Questo Pokémon appartiene alla prima generazione, che tu sappia. Che io sappia, sì. Ok, quindi è o Diglett o Ditto. Qua possiamo fare due cose. O mi butto e tento di indovinarlo, oppure ti faccio l'ultima domanda. E lo escludo a priori. Vabbè, lì ti la capi con una domanda facile, però magari ci puoi anche provare, chissà. Non lo so, perché prima tu hai tentennato sul Ditto. Quindi potrebbe essere Ditto. Non è che ho tentennato, ho detto che non ha le zampe, che è un catarrino. Allo stesso tempo, però, Diglett assomiglia a un pene. E io so che tu sei fissato. Poi in realtà, no, se io ti dicesse Diglett e non è il turno dopo, ti dico Ditto, è la stessa cosa rispetto a fare una domanda e dirtelo il turno dopo, giusto? Beh, tecnicamente sì, però possiamo dire che alla prima l'hai sbagliato. Che poi alla fine magari non conta nulla, però... Però io mi voglio buttare. Dai. Voglio fare quello che ti conosce, secondo me hai scelto Diglett. È vero. Mamma mia! Potevo indovinarlo subito questo. È Diglett. Infatti io te lo volevo dire, però alla fine non te lo dico. Guarda, lo puoi indovinare anche la prima, senza domande. Indovina. Quindi abbiamo indovinato con tre domande, più il quarto turno per dire il nome. Puoi fare ogni genere di domanda, Tano, ricordatelo. Ripetuto anche più volte. Non che abbia molto senso, però se vuoi... Nel senso... No, no, va bene. Il Pokémon è di fuoco, sì. Il Pokémon è di fuoco, sì. No, no. Il Pokémon è di fuoco, sì. Dello stesso tipo, nel senso, agli occhi bianchi, no. Agli occhi neri, no. Del tipo così, intendo. Sta a te quello, sta a te. Io ho, diciamo, variato per portare varietà alle domande. Va bene, va bene. Però tu fai come vuoi. Allora, però devo ancora scegliere, eh. Devo ancora scegliere... Ho scelto, Tano. Hai scelto? Ho scelto il mio Pokémon. Va bene. Vai, ci sono. Allora. Non saprei che ho anche in domanda cominciare, sinceramente. Non lo nego, perché li vedo tutti troppo diversi, anche esteticamente. Me li sono studiati bene. Li ho sortiti bene. Veramente, è una cosa assurda. Allora. Cominciamo da... Sì, dagli occhi, dai. Va bene. Domanda lezzissima. Agli occhi tondi. Bella domanda, perché questa l'ho usata già nella precedente versione del mini-gio. E ti dico di sì. Agli occhi tondi. Dove per tondo si intende cerchio ovale. Quindi tondeggiante. Giusto? Ah, ok. Tu intendi anche tondeggiante, quindi. Nel senso, l'ovale schiacciato, inteso. Beh. È tondo. Ok, sì, sì, va bene. Esempio, un venipede. Vediamo. Lo vedi? Che ha gli occhi, che sono in teoria tondi, però sono mezzi tappati. Così. Ehm. Come no, vero? Questo è un caso al limite. È un caso davvero al limite. Vabbè, io lo nego. L'occhio è tondo, in questo caso. Però dai, questo te lo do come bonus. Levalo. Il sacchettino della spazzatura è che c'ha gli occhi buggati. Ah, ok. Quello. Quello cosa conta? Scusami. Allora, quello scarto della natura e anche della società... Ha gli occhi tondi, in teoria. Ok, quindi... Quindi... Ok, in teoria ho fatto. Allora. Ok. Ha una parte bianca? Questo Pokémon ha una parte bianca, mi chiedi? Mhm. Porca Eva. Ehm... Sì, sì. Sai che questa qui è proprio una domanda schifosa? Sì, perché il bianco è come colore... Allora, diciamo che l'Ivy comunque lo posso levare perché è tipo beige, non è bianco. Sì, Ivy è beige. Allora, fai tipo un riassunto di tutto. Così capisco. Ok, Mew era già disattivato da prima. Ok. L'elefantino lo posso levare. L'elefantino ha una parte bianca, c'è le zampette. Le zampette... Sai che quello lì non so... Ah, lui... Eh, vabbè, ma stiamo guardando l'unghia qui, eh. Guardiamolo per l'unghia. Eh, vabbè, sono bianche. Cioè, sono unghie bianche. Partiamo dalla riga sotto. Finneon ha il riflesso dell'occhio bianco. Quindi devi tenerlo. Diglett c'è il puntino bianco. Diglett ha il riflesso bianco. Quindi devi tenerlo. Questo c'ha l'occhio bianco. Celebi ha l'occhio bianco. Zoro ha l'occhio bianco. E da Romacca, sì. Voltorb, Eevee... Hai detto che c'ha sotto bianco? No, no, Eevee non c'ha nulla. Eevee ha... Hai fatto una domanda di merda, basta. Lo so, lo so, infatti. Tutti hanno l'occhio bianco, praticamente. È una domanda di merda. Allora, vediamo. Allora faccio domande più basilari, dai. Ha qualcosa di verde? Il verde, dai, ce ne sono molti. Facciamo così. Allora, facciamo una bella cosa. L'ultima domanda la cambi con questa. Dai, va bene, va bene. Quindi, annulla tutta la domanda precedente. Uno l'ho detto. Allora, non ha elementi verdi. Perfetto. Allora qui già posso cominciare a levarne molti. Perché se elevi, si va a levare. Se elevi lo levi. Poi, qua c'è il ventipere che si leva. Che era già levato, quindi lo stavo riattivando. Perfetto. Axio lo puoi levare. E questo qui si può levare. Questo qui è Shymin, immagino. È uomo... Io qui la vedo... Uh, domandona. Vai. Questo Pokémon ha la coda? Questo Pokémon ha la coda? Eh. Questo Pokémon ha la coda? Aspettate, mi sai che c'ho un dubbio incredibile. Perché la coda... Sì, ha la coda. Questo Pokémon ha la coda. Ok, quindi si può levare Diglett? Beh, Diglett sì. Questo... Aspetta. Il... Darumaka, secondo te, ce l'ha la coda? Aspetta, devo guardargli bene il culo. Eh, ciao. Sì, la coda ce l'ha, mi spiace. Tanu. Io a questo punto ti avevo dato la risposta. A te quanti ne... Quindi tu mi stai dicendo che ti devo dare una risposta? Se vuoi tentarla... Io ti conosco abbastanza. Quanti... Aspetta, quanti ne sono rimasti? Eh, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Disastro. Nove, la madonna. Però, uomo, io non ha... Tanto ho perso lo stesso. Tanto vale darti le risposte e provare un pareggio. Ok. Quindi io dico Pokémon Trash. Ti dico Magikarp. No. Vuoi provare a indovinarlo? Eh, uomo, non ce la fai mai, sono troppi. Tanto ormai ho perso tantissimo questa sfida qui. Allora. Cosa ti hai messo? Quando hai fatto la domanda sbagliata che abbiamo cancellato del bianco, il primo che mi hai detto che l'abbiamo salvato per un pelo aveva le unghie bianche. Si tratta proprio di Fanfi. L'elefantino. Era la mia risposta. Vai a vedere dall'altra parte. Non ci credo. Vai a vedere. Lo potevi indovinare già lì. Cioè, ma tu ovviamente ti sei andato a guardare le zampette bianche. Sì. Sì, perché... Guarda, mi hai fatto una domanda in realtà che se ti focussavi sul fatto che io lo volevo salvare a tutti i costi, potevi già comprendere che era un bersaglio, diciamo così. Ma dai, ma le unghie, l'unghia delle unghie bianche. Ah, le unghie bianche. È un elemento bianco, raga. Ci sta, ci sta. Ma dai, non ce l'avrei mai fatto. L'elefantino mai, poi mai, veramente. Tano, visto che ho vinto io la sfida e tu l'hai persa, ora ti devo anche spiegare il regolamento del vincitore. Ho quasi paura. Allora, quando una persona viene sconfitta, deve scambiare un Pokémon al vincitore. Ok? Solo che il Pokémon che deve dare è un leggendario. E quello che riceve sarà un Pokémon comune. Quindi tu mi devi dare un tuo leggendario e io ti darò un Rattata. Ma il mio unico leggendario! Sto scherzando, Tano! Era tutta una burla incredibile! Vince l'amicizia e la sportività, perché questo gioco si fa solo per divertirsi. Ti sei divertito? Stavo già schiavando la fossa lì per terra. Ho notato. Ma ti sei divertito? Tantissimo! Ottimo. Allora, se anche voi vi siete divertiti, lasciate un like. Noi ci vediamo presto con un altro video della Pixelmon. E questo minigioco probabilmente lo vedrete in giro. Quindi ragazzi, noi ci salutiamo. Un saluto da Eren e Tano. Ciao a tutti! Ciao a tutti!